Buongiorno mister, arriva l'Udinese domani, che partita si aspetta e che avversaria? Durissima, durissima come dal primo giorno che sono arrivato, anche prima con il Brescia, partita durissima, partita Torino durissima, domani sono convinto che troveremo davanti una squadra che viene a fare il suo risultato, che darà tutto e dobbiamo essere preparati. Dal punto di vista l'Udinese potrebbe mettere la partita molto sul fisico, è una caratteristica che ha. Il Genoa è pronto a controbattere. Ognuno ha la sua caratteristica e noi dobbiamo pensare a fare il meglio possibile da quello che noi stiamo allenando e da quello che noi possiamo avere un vantaggio e dobbiamo approfittare. L'Udinese non è solo una squadra fisica, hanno dei buoni giocatori, gli attaccanti con esperienza e gli attaccanti veloci. È una buona squadra dove rispetteremo e come giocammo in casa faremo la nostra partita per ottenere una buona prestazione sicura. Ultima per me, è inutile girarci intorno, ha rigenerato tutta la squadra, ha fatto giocare i giocatori che non avevano mai giocato fino a questo momento. Diciamo che all'appello ne manca uno, è Iagliello. Domani potrebbe essere un'occasione dal primo minuto. È convocato e è uno che può giocare sicuramente. Un giocatore che viene in rosa è un giocatore di qualità. Lo vedo bene in allenamento, ma lo vedo bene anche gli altri. Allora c'è ancora un po' di tempo per scegliere chi sono gli undici a scendere al campo. E' uno possibile. Buongiorno, mister. Parlavo prima di partita durissima. È stata una settimana partita con Brescia e poi Torino. La squadra dal punto di vista fisico, diciamo, come ha reagito? Come stanno i giocatori? Abbiamo visto per esempio a Gudelo chiudere con i campi a Torino. Come stanno? Hanno reagito benissimo. Abbiamo avuto, dopo la partita contro la Juventus, dei giorni per riposare, per prepararsi per la partita di domani. E per domani saranno tutti quelli convocati al 100%. A livello fisico, mentale. Come ho detto prima, è una partita difficilissima per tanti motivi e noi affronteremo questa partita come tutte le altre o come le due che da quando sono qui. È come una finale. È quella la mentalità oggi dal Genoa. Ecco, e invece dal punto di vista del morale, diciamo, avete fatto quella prestazione a Torino, si è chiusa, diciamo, con il rigore, con la sconfitta a tempo abbondantemente scaduto, diciamo, dal punto di vista del morale sulla squadra, diciamo, questa partita che effetto ha avuto? Il morale oggi è altissimo, ma non solo per la partita contro la Juventus, se non contro il Brescia. È vero che a Torino il risultato non è stato positivo, però la prestazione, secondo me, è stata una buona prestazione di tutti i giocatori, a livello individuale e soprattutto collettivo. La morale oggi è altissima, però quello che è passato dobbiamo lasciarlo lì da una parte e oggi, da quando abbiamo finito la partita contro la Juventus, siamo iniziati già a pensare alla partita di domani, è quella che conta e dobbiamo continuare per la stessa strada, lavorando come squadra, giocando uniti uno per l'altro. Sono convinto che per questa strada possiamo fare delle belle cose. Buongiorno, mister. Quanto è importante l'approccio mentale? Perché comunque contro la Juventus è inutile dirlo i giocatori possono entrare in campo con una concentrazione magari maggiore. questa coldinese è una partita probabilmente più importante per quanto riguarda i punti, per la salvezza, quindi quando è importante la ricetta di Tiago Motta per far sì che la mente e la mentalità rimanga concentrata il più possibile? Per me tutte le partite sono importanti. Se chiedete a un allenatore, qualsiasi allenatore, di scegliere una partita, sono convinto che non troverete nessuno che dirà questo è più importante dell'altro per un allenatore. Tutte le partite sono importanti e tutte le partite sono importanti per le squadre. Perché abbiamo giocato tre punti a Torino e domani giocheremo ancora tre punti e avremo altre partite a pensarci. Dobbiamo essere al 200% concentrati nella partita di domani che è la più importante perché siamo stati questi giorni, abbiamo preparato per questa partita e giocheremo al 200% contro l'Udinese. Ha già pensato a una formazione offensiva come contro la Juventus oppure più difensiva? Dipende, dipende perché ognuno ha il suo punto di vista. Io cerco di mettere i giocatori che credo che in questo momento possono apportare qualcosa in più alla squadra per diversi motivi, per le squadre che andiamo ad affrontare, per come si sono allenati in questi giorni. Poi, offensiva o non offensiva, questo cambia poco secondo me. La cosa più importante è che tutti i giocatori che entrano in campo danno il massimo per se stesso però soprattutto per i compagni che stanno a fianco, per gli altri. Con queste strade andremo lontano. Giorno Mister, voglio chiederti se nell'ottica delle tre gare molto ravvicinate è ipotizzabile un po' di turnover anche per… Perché no? Perché no? Sempre quando… e tutte le scelte che farò sarà perché voglio mettere, o secondo me, in mia opinione, saranno i giocatori che staranno meglio per affrontare la partita di domani. Come ho detto prima, per diversi motivi, per l'avversario, da come siamo noi, da come vogliamo giocare e perché no un turnover. Mister, buongiorno. Buongiorno. Può incidere il fatto che l'Udinese non ha in realtà l'allenatore ma ha un vice, dunque potrebbe… cioè è una squadra un po' sorpresa quella che potreste trovare domani. Questo può essere un problema? Non lo vedo come un problema. Vedo come un stimolo in più per la nostra squadra. Sappiamo tutti quello che sta… quello che è successo, che sta succedendo. Non posso opinare perché non sono lì. per noi, come ho detto, al 200%, perché è una partita importantissima per noi. Può essere un stimolo in più per il Genoa da affrontare una squadra che, fino a due giornate fa, credo che era la migliore difesa del campionato italiano. in queste due partite è successo quello che è successo e noi dobbiamo stare attenti in queste situazioni perché sicuramente troveremo una squadra di qualità, una buona squadra, anche una squadra fisica. Dobbiamo essere preparati. Ancora una cosa, lei ha detto che sono tutti al 100%, dunque anche i due recuperati stanno benissimo? Tutti. Tutti. Anche loro possono giocare, per questo li ho convocati. Quelli che sono domani, tutti possono giocare, tutti disponibili. Chiedevo, mister, che idea si è fatto, diciamo, dopo queste dieci giorni di lavoro e le due partite di Le Rager, che è un giocatore, diciamo, che ha giocato parecchio ma che ha un po' sempre cambiato ruolo, ha un ruolo che almeno finora è quello che abbia visto mai completamente definito. Chiedevo che idea si è fatto lei, cioè qual è la posizione in cui può rendere di più? Le Rager può giocare a centro campo, può giocare anche a un attacco, è un giocatore di qualità, un giocatore che sa scegliere il momento di venire a prendere la palla, il momento di attaccare la profondità, il momento di attaccare l'aria. Per me è un giocatore che può giocare in tanti posti e è buono per me e anche per lui perché è un'opzione in più.